Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storie di medioevi e medievalismi dal quinto al ventunesimo secolo. Con l'inizio di questo nuovo 2023 non mancano tutti i buoni propositi riguardanti la lettura e proprio uno di questi, capitato mi sott'occhio nella mia bacheca di twitter, non seguitemi su twitter, non vi conviene, mi ha spinto a recuperare dieci consigli di lettura più due extra per un totale di un libro al mese a proposito della storia medievale. Su questi consigli influisce non poco la mia formazione comunalistica, pertanto non posso fare a meno di mostrarvi dei titoli che fanno riferimento alla tradizione di studi della storia dei comuni medievali italiani. Tutti i libri che trovate di seguito sono da me stati letti per la mia formazione universitaria, alcuni come lettura curricolare, altre come lettura di approfondimento personale e ho ben badato che avessero due caratteristiche, che fossero facilmente reperibili, li trovate tutti ai link in descrizione, e che offressero uno spettro completo di difficoltà di lettura. Abbiamo infatti testi manualistici, introduttivi e vere e proprie provocazioni accademiche che richiedono qualche conoscenza di base. Partiamo quindi da un ciclo di letture introduttivo alla comunalistica, con uno testo scritto dal purtroppo recentemente compianto François Menard. Stiamo parlando di... L'Italia dei comuni, edito da Viella. Testo manualistico, presenta la tematica dei comuni sia in senso diacronico, tracciandone l'evoluzione progressiva nel tempo, sia in senso sincronico, esplorando aspetti come l'economia o l'utilizzo pratico della scrittura. Testo pulito, tradotto in maniera eccellente, difficilmente noioso e dotato di amplissima bibliografia, fortemente consigliato per chiunque sia a digiuno di questo periodo della storia medievale italiana. Proseguiamo con Lorenzo Tanzini, a consiglio, La vita politica nell'Italia dei comuni. Qui la storia comunale viene presentata ponendo al centro dell'osservazione uno degli aspetti fondamentali dell'organizzazione politica delle città, appunto gli organi assembleari, che, da gruppi informali di cittadini che difendono interessi comuni, diventano nel corso del tempo vere e proprie strutture burocratiche in grado di esprimere la volontà dei gruppi dominanti sull'abitato. Testo più ostico di quello di Menard, riesce comunque ad essere ottimamente accessibile a chiunque, risultando essere una lettura snella e piacevole. Opera che invece richiede una buona dose di conoscenze pregresse, non solo dell'epoca comunale ma anche del periodo precedente, quello diffusamente considerato col termine alto medioevo, è quello di Chris Wickham, Sonnambuli verso un nuovo mondo. Con una prospettiva originale, quasi provocatoria, ma ottimamente recepita dalla storiografia più recente, lo studioso britannico suggerisce come i fautori di quelle che sono considerate le prime istituzioni comunali non fossero in realtà consapevoli di star creando istituzioni originali e in chiara discontinuità con il passato, ma stessero secondo loro semplicemente portando avanti in continuità col passato strutture da loro considerate in linea appunto con questo passato e soprattutto legittime. Testo complesso per contenuto e struttura viene messo come terzo consiglio in seguito a due testi che risultano essere perfettamente complementari e forse necessari al pieno apprezzamento del libro di Wickham. In conclusione del primo ciclo di consigli di lettura abbiamo uno dei più grandi classici della storiografia medievale contemporanea. Sto ovviamente parlando di Cavalieri e cittadini di Jean-Claude Marie Vigueux. Un testo talmente significativo da aver quasi messo a tacere un intero filone di ricerca a causa dell'originalità e dell'utilità delle prospettive proposte. Cavaliere e cittadini si pone di esplorare la classe sociale dei milites, appunto i cavalieri, gettando uno sguardo completo, affilato e ben informato sul loro modo di vivere la piena epoca comunale, fra guerre intercittadine che diventano veri e propri modi di produzione e lo strisciare dei conflitti con altri centri di potere presenti all'interno delle cinta murarie. Testo che per essere apprezzato in pieno credo necessiti a priori della piena consapevolezza del suo impatto. Identificare le numerose idee e proposte esplorate dai suoi successori nell'opera di Marie Vigueux è stato uno dei più grandi piaceri di questi miei primi quattro anni di studi. La seconda scansione raccoglie in realtà una sola opera, sto parlando ovviamente di un'opera che mi è molto cara, ovvero Italica Gens di Enrico Faini. Il sottotitolo è un po' più esplicativo, Memoria e immaginario politico dei cavalieri e cittadini dal secolo XII al secolo XIII. Se possiamo notare fin da subito un collegamento a cavalieri e cittadini di Marie Vigueux meno ovvio è quello a Sonnambuli verso un nuovo mondo di Chris Wickham. Con alcune felici righe dell'introduzione però Enrico Faini ci spiega che se gli uomini che animavano le istituzioni comunali erano dei sonnambuli, questi sonnambuli sognavano e lo scopo del suo libro è il racconto dei loro sogni. Testo ricco, coinvolgente, offre un'infinità di spunti per approfondire le più disparate tematiche della civiltà comunale e un quadro chiaro dello stato degli studi recenti, parliamo infatti di un libro del 2018, a proposito di questa particolare forma di storia culturale. Nota di colore, si tratta del testo che ha ispirato la mia tesi triennale in storia economica e sociale del Medioevo, intitolata La Memoria storica dei comuni, il caso di Parma, secoli undicesimo-quattordicesimo. Per la terza scansione due biografie di due imperatori di due svevi. La prima, Franco Cardini, il Barbarossa. La pena dello storico fiorentino credo sia impossibile da disdegnare e il suo contributo biografico è tuttora apprezzabile, risultando facile da leggere e denso di contenuti. Non sono molti i contributi biografici originariamente in lingua italiana disponibili per la figura di Federico I, nonostante comunque sia gli studi comunelistici, sia gli studi di questo periodo del Medioevo e sulla figura del Barbarossa in generale, siano piuttosto fecondi e approfonditi. Vedremo alcuni esempi più avanti tra i suoi consigli successivi. La seconda biografia che vi voglio consigliare è quella di Ernst Kantorowicz, stavolta dedicata a Federico II. Federico II imperatore è ancora oggi un classico della storiografia federiciana, risultando però difficilmente approcciabile, anche con il rischio di approcciarle in maniera scorretta, senza una minima preparazione nei confronti del contesto in cui Kantorowicz scrive, senza disdegnare di accompagnare la lettura ai testi più recenti. Questi materiali, che sono fondamentalmente per iniziare una pagina di Wikipedia e un altro libro sul periodo della vita di Federico II, ve li lascio sempre in descrizione. Si tratta ovviamente di punti di partenza, ma non posso permettermi di lanciare il sasso e nascondere la mano, lanciare la mano e nascondere il sasso. Per quanto riguarda il terzo blocco di consigli di lettura, passiamo a una serie di consigli legato a uno degli autori che in questi anni mi ha accompagnato più da vicino, Paolo Grillo. Con Le guerre del Barbarossa e Legnano 1176 abbiamo un tuffo nel pieno dei conflitti che videro coinvolti nella seconda metà del XII secolo, le città dell'Italia centosettenzionale e l'imperatore Federico I. Si tratta di due contributi che, se accorpati a quello di Franco Cardini, in entrambi citato come il rilevante biografo del Barbarossa, offrono un primo completo spaccato sugli anni decisivi per la formazione delle istituzioni comunali e la sensibilità di Paolo Grillo, in particolare alle più recenti tendenze storiografiche, non rende i suoi due libri di storia militare pure semplici racconti di eventi e di battaglie. Gli spunti di storia sociale e culturale sono numerosissimi e vengono trasmessi da una penna leggera e fluente, in una lettura adatta a qualsiasi livello di dimestichezza con la materia. Invece il terzo libro che voglio consigliarvi, sempre di Paolo Grillo, è La falsa inimicizia. Un libro che, con tratto pulito e comprensibile, come è comune a Paolo Grillo, si pone l'obiettivo di riassumere e spiegare efficacemente lo stato di conoscenze odierno a proposito di uno dei grandi temi del pieno Medioevo italiano, Guelfi e Ghibellini e i loro conflitti. Ribaltando le prospettive comuni anche al mondo storiografico dello scorso secolo, Paolo Grillo sottolinea come l'antagonismo per antonomasia del linguaggio politico italiano nasconde in realtà una complessa stratificazione di rapporti e storie che si panano come una rete su tutto il territorio italiano e oltre. Altra nota di colore, questo libro mi fu consigliato dal professor Berardo Pio dell'Università di Bologna in conclusione del mio esame di dottrine politiche del Medioevo nell'oramai remota estate 2021, un millennio fa sembra. E invece passando ai due libri bonus che mi sento di consigliare abbiamo Franco Franceschi e Ilaria Taddei, le città italiane nel Medioevo. Testo manualistico che alterna taglio diacronico e sincronico. Si pone l'obiettivo di fornire un quadro chiaro e preciso dello sviluppo della civiltà urbana medievale, avendo però come focus dell'attenzione non tanto le organizzazioni politiche ma la vera e propria città. Nel momento del suo pieno e turbinoso sviluppo a partire pertanto dal XII secolo. Se dovessi dire quello in cui un pochino pecca, un minimo pecca questo libro è che veramente si parla forse un pochino ma troppo poco del periodo precedente al XII secolo che è importantissimo e su cui io sto facendo praticamente non uno ma due corsi in questo periodo. Va bene lo stesso, voglio dire, come introduzione è ottima ed si legge molto bene, molto piacevole. Si tratta quindi di un altro ottimo testo introduttivo che può accompagnare efficacemente il lettore a un primo approccio al pieno medioevo italiano, non disdegnando in questo anche un minimo sguardo sul meridione, a cui viene dedicato un intero capitolo. A volte, troppe volte, messo da parte anche dalla comunalistica più recente. Il secondo libro bonus vuole invece spremere un minimo di mio amore locale e perché si tratta di una monografia sulla mia città. Intitolato in modo abbastanza laconico Parma di Roberto Greci. Si tratta del volume dedicato all'Aurea di una serie edita dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto. Questa serie racchiude in sé un'efficace panoramica utile sia come divulgazione sia come testi di lavoro. In particolare, dentro Parma, è completo nel tracciare le linee guida a proposito delle fonti utili allo studio della città, che è stata una cosa veramente, veramente, veramente molto utile. Non per nulla, io personalmente, l'ho utilizzato questo come testo cardine, fondamentalmente per impostare la scrittura della mia tesina alla ricerca di una serie di fonti di cui avevo bisogno, ovviamente. Con questo si conclude la mia serie di consigli di lettura del 2023, dedicata al panorama della comunalistica recente, e termina anche questo episodio di Medioevo militante, le storie di Medioevi e Medievalismi dal V al XXI secolo. Non dimenticatevi di iscrivervi, mettere mi piace, e se avete qualsiasi domanda a proposito di questi o altri testi sarò ben felice, nel limite delle mie possibilità, di rispondervi. vi saluto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e buon anno nuovo!